Si svolgerà dal 20 al 26 aprile un tour per promuovere il territorio terramano sul mercato turistico olandese e belga puntando su natura, cultura e no gastronomia e lifestyle. Io da sei anni vivo qui a Teramo e mi piace molto questa terra e ho pensato facciamolo conoscere meglio ai olandesi e ai belgi. E così è nata questa idea di proporre quello che conosco io qui, di farlo conoscere anche a loro attraverso percorsi nella natura, nei borghi, durante le cene, le pranzi e no gastronomia così importanti in questa terra. Il tour come si svilupperà? Beh, ci vengono domani notte un'editrice, un fotografo e una giornalista olandese che girano un percorso stabilito da me, ogni tanto l'accompagno, ogni tanto vanno da soli perché parlano pure l'italiano e il loro mestiere è di girare tutto il mondo, di far vedere agli olandesi posti belli in tutto il mondo e questa volta l'Abruzzo. Un'iniziativa promossa dall'Associazione Culturale Teramo Nostra con il supporto del Consorzio BIM e l'organizzazione dell'AIA. Abbiamo cercato di unire cultura e gastronomia e bellezze naturali e quindi è una sinergia che si fa poco e si dovrebbe fare molto di più. Per quanto riguarda il programma, quali saranno gli ospiti? Gli ospiti sono la direttrice di una rivista olandese, c'è anche un blog che ogni giorno viene visitato da più di 4.000 visitatori, quindi è un'opportunità che noi non ci siamo voluti lasciare sfuggire perché è necessario veramente che si faccia, solo se facciamo sinergia tra tutte le forze, si può uscire da questa crisi, questa anche in prospettiva futura soprattutto. Grazie. 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 Grazie.